Beh, io chiaramente oggi sto meglio, a parte la grande delusione ricevuta, sono stata davvero molto dispiaciuta. Lei è giovanissima, 25 anni. Sì, ho 25 anni. Dici, io sono una donna transessuale. Sì. Lei pensa che sia stata, sia arrivata a questo, era il suo primo lavoro, scusi? Il mio primo incarico è perché mi sono laureata da qualche mese, quindi insomma, sono stata assunta tenendo in considerazione il curriculum. Lei nel curriculum aveva scritto che era transessuale? Beh, no. No, 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 non è previsto. La legge sulla privacy lo evita assolutamente. Però aveva detto, è importante però questo, vorrei capire se la scuola era conoscenza del posto, perché se io, scusi, non voglio fare discriminazione a battute stupide, se io la vedo, secondo me, è una ragazza, cioè non direi che ha questa storia sua, di questa identità, diversa da quella che è la normalità, tra virgolette, del mondo, tutte le ipocrisie, eccetera. Se io la vedo, se lei non me lo dice, io penso che sia una donna. Grazie. Aveva bisatto? Perché è importante questo? No, 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 chiaramente no, perché per l'incarico che mi era stato dato non è previsto, insomma, sapere ciò che sono, il mio passato e quant'altro. Oltretutto i miei documenti sono tutti al femminile, quindi io, insomma... Quindi la scuola non sapeva? Grazie. Grazie.